Sentiamo che aria tira davvero a Genova, quantomeno tra i tifosi della Samp Sì, andiamo un po' a tastare il polso della tifoseria Abbiamo un rappresentante del Sampdoria Club ponente genovese Buonasera ad Alessandro Aloi Buonasera a voi, vi ringrazio per avermi chiamato dopo la sconfitta C'è quello di essere meno polemico possibile Immaginiamo che non sia un momento semplice per i tifosi della Sampdoria però sono tante le cose di cui parlare Da dove vuoi ripartire Alessandro? Insomma, sul campo mi sembra che ci sia poco da aggiungere rispetto a quello che si è visto Soprattutto ti chiedo che ti sei fatto delle due versioni date Montella che dice che in pratica non si deve spiegare più di tanto ai tifosi a differenza di Osti che invece ha chiesto scusa a nome della società per la sconfitta di ieri Ma non devono chiedere scusa a niente, devono andarsene e basta Montella ha il nostro bomber, lo ricordiamo ma non è adeguato per Genova Qui a Genova ci vuole un tipo sanguigno un tipo che tiene la sveglia ai giocatori Perché a Bogliasco si sta un po' troppo bene Qua ci vuole un Vecchio Sinisa, un Iachini Non dare troppo pacato Qua ci vuole Qua a Bogliasco si sta bene Ragazzi, i giocatori fanno festa Quindi è stato un rilassamento ulteriore anche dopo Zenga A questo punto della Sampdoria, secondo te, Alessandro? Ma guarda, io ti dico che ieri avessero giocato unici tifosi, unici portuali Avebbero preso 15 gol ma sarebbero finiti agli applausi Ieri giocavano unici ragazzi che pensavano secondo me alle vacanze a forma intera Non c'è quell'attaccamento alla maglia che noi vogliamo Siamo molto delusi, siamo dilaniati dal nervoso Il derby, non devi giocare col fango agli occhi Ieri abbiamo visto veramente L'avete visto tutti Anche perché insomma se non fosse stato per le combinazioni degli altri campi La Sampa va comunque ad ottenere dei punti per la propria salvezza E in più si è giunta a questo momento un po' da resere i conti C'hai già detto la tua, Alessandro, in maniera netta su Montella Su Cassano, che tra l'altro ha avuto con Montella un rapporto particolare Prima protagonista, poi fatto fuori Poi richiamato ora tra virgolette tra i titolari in questo finale di stagione Adesso pare anche questo momento di tensione con la società Tanto era possibile da valutarne un divorzio Adesso bisognerebbe sentire i dettagli di quello che in realtà è successo Però non c'è mai da meravigliarsi, non c'è Cassano di mezzo D'altronde c'è ancora una vecchia diattriba tra noi tifosi e Cassano per la vecchia dichiarazione Quindi oltre i piedi buoni che ha comunque c'è anche qualcosa che non va tra noi e lui Ma mio maestro il problema non è Cassano Il problema è che ha anche la presidenza Io vorrei sapere perché non c'è un presidente genovese Che voglia comprare la Sampdoria Anziché andare a comprare con tuo rispetto i cugini, i fratelli di Entella e Spezia Ma qua c'è una squadra, c'è una grande tifoseria, una grande storia Non capisco perché dobbiamo stare senza la presidenza da ormai Quindi un appello a Volpio Gozzi Sì ma qualche imprenditore anche di Brescia va benissimo Però non si può vedere la tifosera come quella della Sampdoria La rosicale così, è con un presidente che non c'entra secondo me con la Sampdoria Quindi diciamo Alessandro Aloi, Sampdoria Club ponente genovese Può tutto da rifare perché l'allenatore non va bene La dirigenza non va bene Il presidente neppure Che cosa salveresti? Ribaltiamo la situazione Alessandro O da chi ripartiresti? Dalla gradinata a sud Solo da quello si può ripartire Poi abbiamo un giocatore che non è il più forte del mondo Però è Giacchiette che ci ha messo cuore e grinta Posso ripartire da lui anche se so che non è un fuori classico E basta Poi portatemi via di Fausto Pari Chiama veramente la Sampdoria vogliamo Però l'annata di Viviano mi sembra positiva Che era un altro interrogativo da valutare O il rush finale della stagione tra rigori parati è poco rispetto a qualche errore d'inizio anno? Sì sì, adesso preso dall'enfasi mi sono dimenticato di Viviano So che è uno dei vostri, è un fiorentino Però essendo piaciuto in curva lui sa cosa proviamo noi Lo voglio capitano, lo voglio capitano Viviano assolutamente Ok, quindi ci teniamo questa sua segnalazione Alessandro Ieri ha anche sgridato Suso per l'esultanza Quello che ci piace a noi Suso? Non doveva neanche più giocare a ballone Secondo noi Ora questo non ci allarghiamo Insomma alla fine non ha fatto nulla Eh beh, i gesti sotto la guadinata Non vanno fatti C'è una folla lì dietro Non sai chi c'è Può essere chiunque Devi evitare di creare Poi infatti ci sono stati incidenti fuori allo stadio Perché poi quando vai a eccitare la gente Vabbè, questo è giusto stigmatizzarli in negativo Quando ci sono momenti di tensione Però insomma non si può condurre poi tutto a quello Che fanno i calciatori A prescindere dall'educazione delle persone Ecco Sei un professionista Ti pagano bene Esulta sotto la tua curva La nostra gradinata Lascia la stare Alessandro Grazie per essere stato con noi Ci sentiamo presto a Sportiva Buona serata Eh, spero che mi chiamerete Quando vinciamo la partita Assolutamente Ci risenteremo anche in momenti di postura Buona serata Sempre posto a Doria Ciao